Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video in cui vi mostro tutte le mie brush pen, il set di calligrafia, insomma tutto quello che ho per fare brush lettering. Vi faccio vedere quello che ho e vi faccio vedere anche come funzionano sulla carta. Questo video mi è stato richiesto da Emanuela Ferrando, che saluto, c'è Emanuela, e da Sofia Gomez, che saluto anche lei, c'è Sofia. Poi vabbè, in tante mi avete fatto diverse domande e vi avevo appunto risposto che avrei fatto il video. E quindi niente, ci siamo. Se riesco poi nell'info box vi metterò il link delle cose che vi mostro, di quelle che almeno riesco a mettervi. Perché diciamo che la maggior parte delle cose io le ho prese tutte su internet, perché in negozi di belle arti qui della mia zona non ci sono, per cui non le ho trovate. Vi anticipo che io non sono una maestra di calligrafia, ma ho fatto tutto da me, quindi quel poco che riesco a fare, diciamolo, ho fatto esercitandomi. Quindi non demordete, potete farcela anche voi, ci vuole tanto tanto esercizio. Ma niente, passiamo sulla scrivania così in dettaglio, vi faccio vedere quello che ho e vi faccio vedere come le utilizzo, come funzionano. Allora, inizio col farvi vedere questo libro, Lettering Creativo, ma non solo, che ho preso su Amazon, è in italiano. E niente, praticamente qua diciamo che mi introduce un po' al lettering, alla calligrafia moderna. Vi spiega un po' all'inizio come usare il libro, vi parla dei pennini, degli inchiostri, e poi vi fa vedere i vari esercizi. Allora, il trucco è quello che quando si scende, quando si fa un movimento che si scende, bisogna fare pressione, mentre quando si sale bisogna andare un po' più leggeri, di modo da fare il tratto sottile. E niente, qua praticamente ci sono vari esercizi da fare, riscaldati, ovviamente dicono prima di iniziare a riscaldarsi sempre, poi tutta la lettera dall'alfabeto. Ci sono pagine appunto per esercizi, e andando più avanti poi ci sono anche tante idee magari fatte con la lavagna, quindi con i gessi, insomma, e varie creazioni con il lettering. Io per esempio avevo fatto questo con l'acquerello. E niente, questo è il primo strumento che io ho acquistato. Poi voglio farvi vedere subito il set di calligrafie che avevo preso da Lidl, di cui però non sto qua a soffermarmi perché avevo fatto appunto un video, anzi magari vi lascio qua nel pallino il video di riferimento, così se volete andare a vederlo. Vi mostro questo pennino che avevo preso, pennino, è un brush pen, quindi è un pennello, ha le setole sintetiche e ha un serbatoio nel quale si va a mettere l'acqua. Allora, questo si può usare con gli acquerelli. Ecco io qua portate in mano gli acquerelli di Tiger. Prendo un mio quadernetto dove facevo gli esercizi. Ecco io mi ero... Io mi ero fatta questo quaderno che avevo preso la Lidl e l'avevo fatto appunto per esercizi di calligrafia. Avevo fatto qua vari esercizi. Poi avevo fatto delle prove di scrittura. Avevo seguito delle challenge sulla pagina calligrafando insieme. Poi avevo creato la lavagnetta per il gesso e qua ho gli altri divisori. Allora, come si usa questa brush pen? Niente, allora, praticamente si riempie il serbatoio d'acqua. Quando la dobbiamo usare schiacciamo per far andare l'acqua comunque sulle setole. Ecco, diciamo che questa qua l'ho presa da Aliexpress. È un po'... Esce un po' d'acqua ogni tanto. Quindi bisogna comunque stare attenti a non schiacciare troppo. E per esempio io prendo fucsia. Il principio quindi vi diceva questo. Quindi quando salgo, vando verso l'altro, devo fare un tratto leggero. E quando scendo invece vado a calcare sul pennello. In questo modo. Magari prendo il viola che si vede meglio. Vado su, sto leggera. Quando faccio per scendere, premo. Ad esempio, adesso c'è un forso un po' troppa acqua. Comunque in questo modo. Poi questo si può usare anche appunto per colorare i disegni appunto con l'acquerello. Quindi ha una duplice, un duplice utilizzo. E vi faccio vedere gli altri brush pen. Allora, intanto prendo questo quadernetto. Allora, per fare questo tipo di calligrafia vi consiglio di utilizzare i fogli puntinati. Se non trovate i fogli puntinati, potete andare a cercare su internet fogli puntinati. Vi stampate il foglio, praticamente vi stampate le immagini in A4 o quello che avete. E praticamente avete il foglio puntinato. Io questo qua l'avevo preso in colorificio. È della Fabriano se non sbaglio. L'avevo pagato 3 euro questo blocco, come si staccano i fogli. E niente, questo è un altro disegno che avevo provato a fare. E adesso vi faccio vedere appunto le varie brush pen. Allora, parto da queste più economiche che ho trovato su Amazon. e sono della Mozart Dual Brush Pen che da una parte hanno il pennino tipo lo stabilo. Mentre dall'altro hanno la punta a pennello. Diciamo che bisogna prenderci la mano, per esempio. Anche qui proviamo a scrivere ciao. Diciamo che non è tanto semplice da utilizzare, soprattutto se siete all'inizio. Però diciamo sono quelli un po' più economici. E avevo preso il pacchetto, mi sembra che erano 12 colori. Dunque, tutti così. Diciamo che è un po' dura la punta, quindi è difficile da gestire il tratto. Poi, passiamo a un altro tipo di pennarello che è molto valido. E questi io li avevo comprati su Etsy. Anche qui sono 12 colori. Vediamo se riesco a prenderle tutte. E sono le Pentel. Allora, mi raccomando, state attenti se le comprate. Perché devono essere le Pentel Touch. E il codice è SES15C. Quindi non confondetemi, perché ci sono anche pennarelli normali. Vi faccio vedere. Questa, la punta è così. È un po' più dura, diciamo. Però si riesce, almeno all'inizio, a gestire abbastanza bene. Quindi salgo. Vedete, faccio il tratto sottile. Poi scendo e premo. Vedete? Vedete come si riesce a gestire meglio questo? Si riesce a gestire molto meglio. E queste le ho prese su Etsy e vengono dal Giappone, quindi ci hanno messo un pochino da arrivarmi. Poi, sempre della Pentel, avevo comprato sempre su Etsy questo brush, art brush. Praticamente al serbatoio, quindi c'è dentro l'inchiostro. Io l'ho preso questo qua viola. E la punta è proprio più a pennello. Per esempio, vi faccio vedere. Allora, questo, con questo non si riescono a fare delle scritte piccoline. Ed è più difficile da gestire, soprattutto all'inizio. Perché comunque la punta è proprio a pennello, è morbidissima, vedete? E quindi è un po' più difficile da gestire. Poi, sempre della Pentel... È della Pentel anche questo? Mi sembra che era della Pentel anche questo. Questo l'avevo preso in colorificio. È quello dei manga. È quello per disegnare i manga, che è molto simile all'altro. Quindi ha una punta molto sottile, stile pennello. E anche questa è un po' più difficile da gestire, perché appunto è morbidissima. Anche di inchiostro un po'. All'inizio va così, si deve un po' caricare quando la uso. E questa però la utilizzano soprattutto per colorare e disegnare i manga. Poi, un'altra marca che ho preso su... Non mi ricordo se su Amazon o su Etsy. Comunque, come vi dicevo, vi lascio i link di quelli che riesco a lasciarvi. Ho preso questi metallizzati della Kuretake. Ecco, un'altra marca che mi piace molto appunto è la Kuretake. Vi faccio vedere questo. Allora, la punta sembra un po' più un pennarello. Però anche questa si gestisce abbastanza bene. Questi hanno una resa migliore su un cartoncino nero, perché appunto essendo metallizzati su un cartoncino nero hanno una resa stupenda. Poi, sempre della Kuretake, avevo preso in fiera, mi pare, a Creativa Bergamo. Avevo preso questi Kuretake Zig. Questi mi piacciono veramente, veramente tanto, perché a parte, vabbè, questi qua sono proprio colori, colori pastello. Sono Real Brush, hanno una sola punta, è abbastanza fine ed è tipo un pennello. Però riesco a gestirli abbastanza bene. Anche qui è molto morbida. Non si riesce abbastanza bene a gestire il tratto sottile e pesante. Mi piacciono tanto, poi questi colori pastelli, pastello devo dire che sono stupendi. Questi costicchiano un po' di più, mi pare che li avessi pagati questi 4, 11 euro. Però ho voluto provarli perché mi incuriosiva la marca della Zig. Poi, altri brush pen, vabbè, avevo preso questi della Lidl, della Crelando. Hanno una punta abbastanza lunga, sempre un po' tipo pennello. E sono un po' più difficili appunto da gestire perché la punta è molto dura, rigida e diciamo che si fa un po' fatica a fare il tratto sottile, a differenziare il tratto sottile da quello spesso. Poi, altre valide per iniziare sono queste della Tombow. Quindi la Tombow è un'altra marca, è un po' più cara come marca. E sono queste, le Fudenosuke, non so come si pronuncia però dovrebbe essere quello. Una blu e una nera, cioè il packaging è blu e nero, però praticamente una è dura e una è più morbida. Adesso non ricordo qual è, vediamo se questa è quella morbida. Questa dovrebbe essere quella dura, vedete scrive comunque nero, però per i principianti funziona molto bene. E questa dovrebbe essere quella un po' più morbida, sì esatto. Io consiglio per chi vuole iniziare questa, questa diciamo col sfondo blu, che è quella più dura perché si riesce veramente a gestire bene. Vedete, vado, faccio il tratto leggero e poi premo. Quando devo fare, perché diciamo che secondo me la parte, almeno nel mio caso, la parte più difficile è fare il tratto, il tratto sottile perché bisogna alzare di più la mano, premere di meno. Con questa più dura è più facile fare il tratto sottile. Poi sempre della Tombow avevo trovato questa, che è Dual Tip. Da una parte è grigio, però è sempre, diciamo che è sempre quello lì un po' più, un po' più duro. Con la punta un po' più dura, quindi si riesce anche questo a gestire abbastanza bene. E l'altro è nero, l'altra punta. L'altra punta però, ecco, è più morbida, infatti vedete ho già fatto uno schifo. Questo qua mi è uscito una schifezza. E poi della Tombow, un po' più complicati da utilizzare, avevo preso questi. Allora, ne avevo presi uno, l'avevo preso in colorificio e gli ho dato un rene perché l'avevo pagato 6 euro, cioè una cosa veramente improponibile. Questi tre invece li avevo presi in fiera creativa e gli avevo dato, mi pare, 3 euro l'uno. E poi ne avevo presi altri 6, color pastello, questi, bellissimi, che avevo preso su Amazon. Allora, come sono questi? Praticamente hanno da una parte il pennarello e dall'altra la punta a pennello. Questi, anche qui, per i principianti sono un po' più difficili da utilizzare. Perché comunque la punta è abbastanza morbida, bisogna imparare bene a gestire. Ecco, l'unica cosa, anche questi che hanno la punta veramente grande e quindi si usano più che altro per fare, almeno io riesco meglio con le scritte grandi. Quindi, guardate questo, questi qua pastello sono una meraviglia perché veramente hanno dei colori chiarissimi, quindi volendo si possono usare anche, secondo me, sul bullet journal. Perché non trapassano i fogli. E niente, credo di avervi mostrato tutti i miei brush pen. Mi sto guardando intorno. Ah, sì, avevo preso anche questi dalla Lidl, acquarellabili, ma questi non vanno bene assolutamente perché, vedete, non si... Non si riesce a fare il tratto fine, il tratto sottile, è tutto uguale, quindi questi assolutamente no. Vanno bene per qualsiasi altra cosa, ma non per fare il brush lettering. E poi avevo comprato questi dalla Crayola con la punta a cono, perché ho visto tante ragazze che li usano per fare, appunto, il brush lettering. Però io non riesco a usarli, cioè, vabbè, il tratto sottile, ok. Ma poi, quando devo fare quello spesso, bisognerebbe inclinare il pennarello. E, insomma, è un movimento che faccio veramente fatica a farlo. Forse magari con quelli... Io avevo preso questi qua piccolini. Forse con quelli un po' più grandi. E, vedete, non riesco proprio. Quindi, niente, i Crayola... Forse con quelli un po' più grossi, che hanno la punta più grossa, si riesce a fare questo giochetto, ma... Io, sinceramente, non riesco, quindi... Li tengo proprio per colorare. E, niente, spero di essere... Per essere stata abbastanza... Abbastanza chiara nella spiegazione. Vi ripeto, nell'info box metto il link di quello che mi... Quello che riesco a mettervi. E... Vi ringrazio per avermi seguito. Mettete un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!